Buongiorno a tutti, eccomi qua, sono il dottor Tosini, responsabile del centro sperimentale orto-floricolo Podi-Travontana di Veneto di Agricoltura. Mancano veramente pochi giorni al 19 giugno, giornata dedicata alla divulgazione, alle prove varietali di tecnica di coltivazione nel settore orticolo. Mancano veramente pochi dettagli e poi siamo pronti, quindi vi invito tutti a venireci visitare. Vedrete diverse prove sperimentali, tra cui quella in cui mi trovo in questo tunnel doppia campata. È una prova di porti innesti, abbiamo scelto una varietà, il Sirellium, che è una varietà di pomodoro allungato e testiamo questa varietà a franca di piede con 25 porti innesti. Se vedete, basta chiarsi, qui vediamo una pianta con due teste, è una pianta innestata su una varietà di porti innesto interspecifico, quindi confronteremo l'andamento di questi porti innesti, come si comportano e come si esprimono per quanto riguarda la cultivar e ovviamente confronteremo, quello che ci tarsi di più, è confrontare la varietà franca di piede, quindi diretta, non innestata. Questa è la tipica forma del Sirellium, sta prendendo colore, ciò che non si vede sulla pianta innestata perché anticipa la pianta franca di piede e andremo a valutare tutte le caratteristiche quantitative e qualitative di questa franca di piede con il porti innesto. La franca di piede è una pianta meno vigorosa e quindi abbiamo una pianta e una testa. Nel porti innesto invece abbiamo una pianta a due teste, cosa vuol dire? Che a metro quadrato il numero di teste è uguale, mentre il numero di piante in estate è dimezzato. Quindi venite a trovarci, vedrete poi più prove, ovviamente sarò io che vi presenterò tutte le prove sperimentali fino a circa le 11 e poi ci sarà il convegno, l'incontro tecnico con dei relatori veramente prestigiosi. Grazie ancora della pazienza, vi aspetto in Cerroio Junior.